Adesso parlo io per voi, cari amici, deve ridere perché è una bella persona, si faccia parlare, certo, ascoltate, io innanzitutto mi presento, sono una comune cittadina che gira piazze e piazze, va nelle case delle persone per portare la legalità che questo uomo sta portando avanti. Certo, questa è mafia, questa è mafia di questo signore, adesso vi racconto tutto io, io sono una persona come voi, una persona che lavora, questo signore che ne abbiamo eletto noi, certo, questa è la rabbia dei mafiosi, signori miei, è la rabbia della gente che non può mangiare più in questa regione, è la rabbia di quelle persone che non... Grazie